La lotteria degli scontrini torna a premiare l'Umbria, due le vincite registrate ultimamente a Terni e Corciano. A Terni una sessantenne ha vinto il premio settimanale da 25.000 euro a fronte di una spesa di generi alimentari di circa 70 euro in un esercizio cittadino. Uguale vincita per un quarantenne di Corciano, grazie a una spesa alimentare di appena 12 euro. In questi giorni due consumatori si sono presentati presso l'ufficio Monopoli di Perugia, si legge in un comunicato, per depositare la relativa documentazione. Nei primi due mesi del 2023 in Umbria sono stati assegnati premi per 220.000 euro, 175.000 sono stati vinti da 7 consumatori, 150.000 nella provincia di Perugia, 25.000 in quella di Terni, 45.000 da 6 esercenti nello stesso periodo del 2022, furono riconosciute vincite per 126.000 euro, 95.000 euro a consumatori, mentre 31.000 ai esercenti.